Partiti. Veloce Papaloca si porta subito in vantaggio avendo all'interno Asclepio. In terza posizione a largo Golden Ticket ed in coda Bridge Cioci. Golden Ticket all'imbocco della curva passa in vantaggio e ora conduce davanti a Papaloca. In terza posizione Asclepio davanti a Bridge Cioci. Posizioni invariate con i quattro concorrenti ben riuniti poco prima dell'ingresso della retta di arrivo. Con Golden Ticket in vantaggio su Papaloca che lo tallona. Poi ancora a centropista Asclepio con a largo di tutti in coda Bridge Cioci. Siamo a 500 dal palo. Golden Ticket all'interno e in leggero vantaggio nei confronti di Papaloca. Mentre a centropista si prepara anche Asclepio. Più indietro rimane Bridge Cioci. Siamo a 300 dal palo con Asclepio che all'esterno sta prendendo il sopravvento. Nel tratto conclusivo Asclepio allunga a centropista per concludere nettamente davanti a Papaloca. Quindi Golden Ticket e Bridge Cioci. Andiamo a rivedere le immagini finali di questa terza corsa di Napoli con Gabriele Bietolini in sella al numero uno. Asclepio allenato dal fratello Gianluca in bella professione nel tratto finale si è allungato e ha concluso. Quindi al primo posto il numero uno di Asclepio. Secondo Papaloca col quattro. Al terzo posto il favorito Golden Ticket. Quindi 1-4-3 il probabile ed ufficioso arrivo della terza di Napoli. Secondo Papaloca col quattro.